Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per darvi il benvenuto alla seconda puntata di Calcio News ragazzi la rubrica dedicata al calcio mercato della Serie A che ho aperto praticamente due settimane fa e che vorrei portare avanti fino al 18 agosto, ecco, fino all'ultimo giorno di calcio mercato vorrei pubblicare un video a lunedì e oggi vi parlerò di 3-4 notizie abbastanza fresche, ecco una che riguarda il Milan, una che riguarda la Roma, una la Lazio e un'altra invece la Juventus partiamo proprio con la notizia più fresca di giornata, ecco, che riguarda la società rossonera perché il Liverpool, dopo i recenti errori, le recenti papere di Carius in finale di Champions League contro il Real Madrid, sta cercando un nuovo portiere e a quanto pare sta puntando a Gigio Donnarumma vi leggo questa breve notizia che posso trovare sulla Gazzetta dello Sport l'interesse del Liverpool per Donnarumma è assolutamente concreto e Mirabelli sta pianificando la strategia migliore per ottimizzare la cessione del portiere rossonero un eventuale addio di Donnarumma potrebbe finanziare il calcio mercato Milan e la richiesta a Liverpool è di circa 70 milioni di euro cifra che i Reds possono spendere quasi serenamente visti gli enormi introiti provenienti dai diritti TV della Premier League e dai premi della Champions League qualora il Milan dovesse essere stromesso dall'Europa League ecco che Donnarumma accetterebbe la partenza mentre in caso di partecipazione all'Europa League preferrebbe rimanere rosso nero per riscattarsi dopo questa stagione difficile che poi non capisco perché rimarrebbe in caso di Europa League visto che Reina praticamente sbarcherà tra qualche settimana al 90% ecco questa è una cosa che non capisco devo dire alcune cose non capisco la scelta del Liverpool di andare a puntare un giocatore come Donnarumma che praticamente ha fatto gli stessi danni di Karius in finale di Champions League in finale di Coppa Italia contro la Juventus perché praticamente i due portiere hanno fatto gli stessi danni alle due squadre quindi sinceramente non capisco c'è di meglio soprattutto a quella cifra soprattutto a 70 milioni di euro c'è assolutamente di meglio c'è in giro è veramente una cosa che non capisco soldi che sicuramente potrebbero aiutare potrebbero aiutare la società rossonera finanziariamente parlando e vediamo come andrà vediamo come andrà io credo che alla fine Donnarumma verrà ceduto perché insomma è stato preso Reina quindi ha già firmato il contratto quindi credo veramente che il destino di Donnarumma sia già scritto passiamo alla notizia dopo ragazzi che riguarda la Roma perché c'è l'accordo con Brian Cristante 5 anni di contratto a 2 milioni e mezzo a stagione che celebra praticamente 12 milioni e mezzo nel complessivo in 5 anni vi leggo la notizia molto brevemente e poi la commenterò Brian Cristante si avvicina alla Roma secondo quanto riporta calciomercato.com i giallorossi sono in vantaggio sulla Juventus altra squadra interessata a centrocampista dell'Atalanta manca ancora l'accordo con il club bergamasco mentre la Roma ha già quello col calciatore 5 anni di contratto a 2 milioni e mezzo di euro una carta che la società di Trigoria è pronta a giocarsi con l'Atalanta è quella legata a Gregor Defrel a Gasperini piace molto l'attaccante francese che però è stato pagato ben 23 milioni appena un anno fa si studia la modalità in cui può entrare nell'affare perché l'ho detto in tempi non sospetti ragazzi praticamente qualche giorno fa e sono stato anche insultato per questo la Roma non potrebbe acquistare senza aver venduto quindi una specie di scambio eco Defrel-Cristante sicuramente non farebbe danni alla società giallorossa per questo sono stato insultato e come vedete la Roma sta cercando di piazzare qualcuno di piazzare qualcuno all'Atalanta per prendere Cristante che insomma è valutato quella cifra lì è valutata insomma è attorno ai 20-25 milioni di euro quindi alla fine Cristante non andrà a Lazio per la Champions League sfumata all'ultima giornata nella gara contro l'Inter e appunto c'è questa specie di ballottaggio tra Roma e Juventus Cristante è un giocatore che potrebbe giocare titolare in qualsiasi squadra della Serie A secondo me anche alla Juventus potrebbe giocare anche al Napoli che secondo me è un giocatore da Napoli ecco Cristante è un giocatore da Napoli e potrebbe secondo me sostituire perfettamente un giocatore come Amsic per esempio e farebbe sicuramente comodo alla Roma al posto perché no di Pellegrini che sembra praticamente in partenza ecco e secondo me è anche superiore rispetto al centrocampista romano passiamo alla notizia dopo ragazzi questa volta riguarda la squadra della sponda opposta del Tevere ovvero la Lazio perché Tare apparentemente è pronto a chiudere il primo colpo affari spenti vi leggo questa notizia brevissima il gritare anche quest'anno lavorerà affari spenti il calciomercato è alle porte ma lui stando ad alcune indiscrezioni esclusive raccolte dalla redazione di cittaceleste.it sarebbe già pronto a chiudere il primo colpo si tratta di Acerbi il calciatore ha già dato l'ok al trasferimento e a Formello ci sarebbe già stato anche l'incontro finale con l'entourage del giocatore costa circa 10 milioni di euro a Inzaghi piace ma dalla Lazio c'è anche chi è destinato a partire a salutare e vabbè proprio questo ne parleremo nei prossimi episodi di Calcio in Uso ecco intanto commentiamo questa specie di trattativa che starebbe per andare in porto ecco io non ci credo fino a che non vedo Acerbi che dice davanti alle telecamere io sono un giocatore della Lazio voi sapete quanto io possa stimare questo difensore è uno dei difensori italiani più forti che abbiamo appunto in Italia eppure non è mai stato gagato di pezza da nessuno al Sassuolo ha fatto la sua grande figura tra l'altro l'ha pure commentato nel post partita di Inter Sassuolo che ha giocato una partita incredibile se la Lazio lo sta trattando perfino prima dell'inizio del calciomercato vuol dire che dovrebbe essere diciamo il sostituto di De Vrij al centro della difesa a tre ecco per il prossimo anno poi lo ripeto ragazzi io ci credo poco ci credo poco credo poco a tutte le notizie che riguardano il mondo Lazio in questo momento perché si sta parlando anche di immobile al Milan per 40 milioni di euro voglio dire il Milan non può spendere neanche un milione secondo come fa a acquistare immobile a 40 milioni visto che deve darne ancora 10 per il trasferimento di Biglia comunque ragazzi vediamo come procede questa trattativa che a mio parere non è neanche iniziata però vabbè sicuramente Acerbi accetterebbe una presunta offerta della Lazio ecco perché farebbe sicuramente il salto di qualità che non ha fatto in questi ultimi anni però vediamo l'ultima notizia ovviamente riguarda Emre Can alla Juventus perché lunedì il giocatore turco ex Liverpool sarà a Torino per le visite mediche questa è una notizia di due giorni fa alcune ore fa si è detto che in realtà la data delle visite mediche è ancora da definire però al 99% Emre Can sarà un giocatore della Juventus per la stagione 2018-2019 ed è un acquisto importante ragazzi è un acquisto importante che andrà a rinforzare il centrocampo dei campioni d'Italia ecco è un acquisto anche buono in prospettiva insomma di uno scontro Champions League ecco il Liverpool che invece perde un giocatore che non è stato secondo me sfruttato a dovere in questa stagione poi certo il Liverpool è arrivato dove è arrivato anche senza il supporto diciamo del turco però insomma è sicuramente un'ottima risorsa sarebbe un'ottima risorsa per la squadra di Allegri o qualsiasi allenatore ci sarà il prossimo anno ma ragazzi ditemi che cosa ne pensate di queste ultime notizie mettete un like per supportare questa serie che ripeto vorrei portare avanti ogni lunedì fino al 18 di agosto riguardante appunto tutte le notizie più fresche sul calcio mercato serie A iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto noi ci vediamo successivamente ciao